Cormac presenta EndiScan, lo scanner intelligente per misurare l'esatta profondità del battistrada nei pneumatici. In pochi secondi EndiScan effettua la scansione tramite un laser e con una precisione di 0,1 mm misura e fornisce una visualizzazione grafica dei valori. Si tratta di uno strumento compatto e facile da utilizzare. Si connette alla rete tramite l'utilizzo di una SIM card oppure collegandosi ad una rete Wi-Fi. La spia verde indica che il collegamento è corretto. Ha un'autonomia di 40 ore in stand-by e si ricarica come un telefono. Grazie ad un'interfaccia intuitiva che procede per step, l'utilizzo è molto semplice. Con la fotocamera integrata, EndiScan è in grado di leggere ed inserire automaticamente la targa del veicolo. Si inseriscono i dati del cliente da includere nel report. La verifica del veicolo non si fa più a mano. Su fogli, EndiScan consente di fare molto più velocemente il check dei vari controlli che verranno poi visualizzati nel report finale. Una volta inseriti i dati dei pneumatici, si può iniziare la scansione dalla ruota suggerita nel display, in questo caso anteriore sinistra. Oltre alla scansione, è possibile documentare un'anomalia inserendo la foto. L'operazione va ripetuta per tutte le ruote, seguendo l'ordine indicato dal dispositivo. Al termine, EndiScan elabora una scheda report contenente tutte le informazioni rilevate. La scheda si può visualizzare sul display oppure inviare via e-mail, così da poterla stampare da PC. Con le informazioni fornite da EndiScan, oltre all'usura dei pneumatici, si possono individuare consumi anomali o eventuali problemi a sospensioni, allineamento ruota e pressione inadeguata dei pneumatici. EndiScan si rende utile nel lavoro certificando il livello di usura degli pneumatici, ed è pensato per gommisti, officine, centri di stoccaggio pneumatici, gestione flotte aziendali, assistenza mobile e ispezioni su strada. EndiScan, la tecnologia laser di Corbac. Un vero progresso per tutti.